ciao a tutti e a tutte bentornati bentornati in un nuovo blog anzi no in un nuovo video allora niente di che adesso siamo alla foce dai baraconi che ci sono stati poco fa che poi vi metterò i video allora niente di che è qui dove siamo sì ci siamo perfetto allora per oggi è tutto lasciate like iscrivetevi al canale se anche voi siete mai stati in questa piazza c'è in piazza come si chiama questa piazza vabbè fatto sta praticamente è piazza rossetti mi pare belle le pientine a parte quello adesso siamo accanto una fontana lì ci sono persone che fanno quel cacchia che gli fare e va bene allora per oggi è tutto lasciate like iscrivetevi al canale se volete unirvi a data family e noi ci vediamo domani con un nuovo video o blog ciao